La costa d'Avorio è in festa e ovunque sono scene di giubilo per la cattura di Laurent Gbagbo. Canti e balli per le strade davanti alle telecamere, modo per esorcizzare la violenza che per lungo tempo ha costretto gli ivoriani a scappare per evitare gli scontri. E' una gioia immensa. Dopo dieci anni di crisi, di immobilismo, di mancato sviluppo, dobbiamo dire grazie a Guattara e ringraziare Dio. Sì, grazie a Guattara, grazie a Dio. Un sollievo per tutti gli ivoriani, ma non tutti, si sentono di celebrare. Per fare terra bruciata attorno a Gbagbo, il presidente eletto Guattara ha prorogato il coprifuoco dalle 6 della sera alle 6 del mattino fino a mercoledì prossimo.